Non saprei unico, non ne sono troppo sicuro. Smettila di preoccuparti, è come Natale. E i russi portano i regali. E i russi portano i regali. I titoli non erano certo incoraggianti. Tutte le testate parlavano dell'efferato omicidio. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene della polizia. Una situazione invidiabile, braccato da chi ti voleva morto e ricercato per un amico che non avevi ucciso. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene della polizia. L'intero edificio era imbottito di esplosiva. L'eco della tempesta si confondeva con le sirene.